Ciao a tutti i banani! Oggi siamo in un nuovo video e vi farò vedere come fare una cacca finta verde! Gli ingredienti sono Del curry Della paprika forte macinata Del iodato sale marino fino E non vi dimenticate fino FINO Un fazzoletto Un bigliettino con scritto sopra biscotto alla banana Un bicchiere di plastica Una ciotolina fatta interamente di terracotta Uno spaghetto senza glutine Un cucchiaino Del filo interdentale Oral B Uno stuzzicadente E per finire un pallino di plastica Per prima cosa prendete la ciotolina di terracotta La mettete nel lavandino Aprite l'acqua e mettete dell'acqua dentro alla ciotolina Come secondo passo da fare Bisogna aggiungere un pezzettino di carta Come terza cosa bisogna mettere il pallino di plastica Come quarta cosa bisogna spezzare il pezzettino di legno in due E metterlo dentro la ciotolina Come quinto ingrediente Bisogna mettere il fogliettino con scritto sopra biscotto alla banana Dentro la ciotolina Come quinto ingrediente Andiamo di spezie Del curry Della paprika forte macinata E il iodato sale marino fino Miscolate tutto E poi vi verrà questo risultato Il prossimo passo da fare È spezzare lo spaghetto E metterlo dentro Mescoliamo Mescoliamo Poi mettiamo dentro il fazzoletto E dopo mettete dentro il filo interdentale Mescolate il tutto E dopo come risultato vi verrà questo Finita il miscoglio Lo versiamo nel bicchiere di plastica E per finire vi verrà una cacca verde Se la vostra cacca verde finta la volete fare profumata Ci mettete un po' di deodorante Benissimo ragazzi Spero che il video vi sia piaciuto Che lo proviate a casa E se il video vi è piaciuto Iscrivete Lasciate un like E attivate la campanella E Ferro Banana Vi saluta Ciao